Lei è un attento perché è successo così, però non è detto che sia sistematico, che sia la regola, o perlomeno un calciatore che accetta poi questo fatto di essere una controfigura, una roba brutta. Io dico che sia assoluta casualità e che poi i calciatori stessi vogliano ribaltare un po' questo pensiero perché Giorgio Mario è ritornato all'allenamento dopo Bologna, il giorno dopo abbiamo fatto, facciamo una partita per compensare poi quello che è il lavoro di quelli che rimangono fuori perché se no il giorno dopo ancora ce l'hai sempre da dover dividere. Nel giorno dopo la partita facciamo una partitina amichevole fra di noi, sempre con l'aiuto poi di Stefano che ci manda molti giocatori dalla primavera che non hanno giocato nella primavera e facciamo un match di quelli abbastanza tirati, di modo che il giorno dopo successivamente ce l'abbiamo tutti allo stesso pari come lavoro. Lui è voluto stare dentro la fatica del giorno dopo e questo è un segnale importante, non era contento di quello che aveva dato, voleva subito saltare addosso con forza a quella dimostrazione poi fatta. la voleva ribaltare, se la voleva togliere da addosso lui stesso, dava molto fastidio più a lui che a chi l'ha vista, ecco, questo è un segnale fondamentale.